Il rilancio del turismo marchigiano passa anche dall'incontro con gli operatori, oggi qui nella splendida cornice della cantina Moroder di Montacuto il presidente Acquarone incontra i tour operator associati all'Inside Market Live. Sì, è un incontro volto a conoscersi ancora più approfonditamente e raccontare un'idea di sviluppo turistico che può assolutamente portare la nostra regione ad essere una regione che vede il turismo come strumento forte di rilancio. Un turismo che non è solo più balneare, un turismo che è assolutamente anche destagionalizzato, che parte dal mare e va alla montagna attraversando le colline e i prodotti enogastronomici, la cultura, l'arte, la storia. Un grande patrimonio di cui noi abbiamo a disposizione anche nella manifattura e nell'artigianato. Il nostro settore, appunto i tour operator dell'Incoming che rappresentano, la nostra associazione rappresenta la quasi totalità dei tour operator dell'Incoming della regione Marche ha espresso soprattutto alcuni punti al presidente e assessore al turismo Acquarone su cui assolutamente non possiamo transigere. Ovvero una richiesta, una necessità di concertare le azioni anche per non disperdere le risorse che ci sono e che arriveranno e che sono dedicate appunto al settore del turismo. Seconda cosa, molto importante, anche un aiuto concreto, qualora la situazione dovesse appunto essere ancora più difficile con la ripresa della pandemia, un aiuto a fondo perduto per i tour operator dell'Incoming. Il ruolo dei tour operator, facendo una metafora, è il ruolo dei progettisti, è coloro che riescono a mettere insieme quello che noi abbiamo sul territorio e possono sicuramente promoverlo, portarlo all'estero e per il tramite e con il sostegno della regione anche fare appunto dei circuiti che oggi non riusciamo a vedere ma che ci sono e vanno organizzati. I tour operator sono strategici e centrali per un semplice motivo perché spesso dove non arriva la promozione regionale arrivano i tour operator, anche nelle fiere, negli eventi internazionali, anche nella promo commercializzazione del territorio i tour operator giocano un ruolo centrale, anche nei rapporti con gli operatori esteri e con i paesi e comunque rendono il turismo e lo promuovono quotidianamente anche su scenari dove la regione magari non è presente. Quindi per noi collaborare e lavorare con i tour operator e soprattutto dare un ruolo centrale agli operatori per noi è fondamentale per poter continuare a far crescere questa regione. La presenza del Presidente Acquaroli testimonia l'attenzione da parte della Regione Marche a questo tema, tanto che lo stesso si è tenuto la delega al turismo, si è parlato dell'Agenzia dell'Internalizzazione Turismo che sta partendo in fase di votazione all'interno della Commissione competente La scelta di Mancini è sotto gli occhi di tutti, è stata una scelta assolutamente azzeccata, un testimone di eccezione che fa parte di questa regione, quindi un testimone veramente naturale come ha detto il Presidente per cercare di rilanciare un turismo molto importante all'interno della nostra regione e far sì che la regione si faccia veramente capace e portatrice di una programmazione ed incentivo nel territorio per i nostri turisti. Grazie.